Bentornati nel progetto sicurezza Garmin. Come sapete Garmin si fa portabandiera della sicurezza sulla strada per questo oggi vi parliamo del nuovo varia radar. Alessandro Garmin Italia è lieta di presentarti e consegnarti il nuovo varia radar. Grazie, noto subito che è migliorata l'estetica perché l'altra era in orizzontale se non sbaglio questa in verticale quale altra funzione ha di specifico migliorativa rispetto a quello vecchio? Allora esattamente tutte le cose nuove si migliorano abbiamo aumentato il raggio di azione del radar quindi arriviamo fino a 220 gradi significa che affrontando delle curve o in laterale riusciamo a vedere anche i mezzi che ci arrivano quasi di fianco. Abbiamo aumentato la luminosità fino a un chilometro e sei di distanza abbiamo aumentato la sensibilità questo significa che per i veicoli che si avvicinano alla stessa velocità noi riusciamo a vederli all'interno del display quindi queste sono le tre grandi caratteristiche oltre a quella evidente del design che è stato cambiato. Ok, per connetterlo al mio Garmin Age? Niente di più facile, come se stesse associando una fascia cardio e come associavi il vecchio radar. Cerchi il sensore, lo accendi e lo trovi immediatamente. Non vedo l'ora di provarlo. È anche molto sicuro. Come avete avuto modo di vedere la novità del nuovo varia radar sono l'angolo di rilevamento dei veicoli aumentato fino a 220 gradi, la maggior luminosità del dispositivo visibile già da un chilometro e mezzo, inoltre aumentata la sensibilità verso i veicoli in avvicinamento e poi il design molto più accattivante ed aerodinamico grazie al suo montaggio verticale. Nella prossima puntata vedremo gli approfondimenti tecnici di questo utilissimo prodotto. Continuate a seguirci. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!